Bene, Toni Cereso, attenzione, è solo, solo Pruzzo, solo in aria, evita il portiere, rigore, rigore, rigore per la Roma, rigore, calcio di rigore. E' questo che chiamo sempre nel gaucho, l'egoismo non esiste nel gaucho. Toninho Cereso ha perso l'opportunità di calciare in porta, poteva tentare il dribbling, non ha driblato, ha visto che Pruzzo entrava in migliori colciori, le ha dato la palla, Pruzzo, calcio di rigore e fa colore della Roma. E' il dribbling della Roma ancora una volta. E' il dribbling della Roma, di Bartolomei, una grande cannata sulla destra del portiere, portiere della nostra parte, è una nuova sia massima, con calma e con tranquillità, Bartolomei è distrutto, sulla sinistra del portiere che si è distrutto, sulla sua testa. Tu sapere, whisky, per la calcio!